Come evitare i pensieri negativi ed essere più felici Nella vita possono verificarsi situazioni indesiderate che non possono essere controllate, semplicemente perché sfuggono al nostro raggio di azione. Ciò che si può fare in questi casi è evitare i pensieri negativi, cioè modificare il modo in cui si gestisce questo tipo di circostanze. . In alcune occasioni si pensa già dai primi minuti della giornata che ciò che accadrà sarà negativo. Può trattarsi, ad esempio, di una riunione di lavoro un po' scomoda. Per evitare i pensieri negativi bisogna cominciare a concentrarsi sul nostro umore. . Non bisogna pensare quindi all'attività o all'occasione, che sono spesso incontrollabili, ma al mondo in cui si pensa. Seguendo questo ordine di idee, cerca di concentrarti affinché i pensieri negativi restino lontani. . E' fondamentale non credere che i pensieri positivi consistano nel vedere il mondo in rosa, cioè in modo non realistico. Si tratta invece di un meccanismo attraverso il quale ci si valorizza per ciò che si è realmente. . . A tal proposito si consiglia di cominciare una routine di attività fisica, che ci fa sentire bene con noi stessi. . Anche la meditazione è importante per tenere lontani i pensieri negativi e, anche se può sembrare scontato, sorridere tanto favorisce la creazione di un ambiente positivo intorno a noi. . . Dedica più tempo a te stesso, a conoscerti meglio, a dare più valore alle cose che ti piacciono davvero. .